Ci siamo, tutto pronto, partiti i cavalli del premio Campidoglio, Memorial Francesco Oliverio. Villabate il favorito subito in prima linea, accompagnata all'esterno da Beautiful Vintage in terza, anche il nero che ha accettato il primo parziale anche se deve trovare una schiena da prendere come riferimento. Seconda linea formata dall'interno verso l'esterno da Circus Ring, Security Reason e Black Horus. Prima parte di gara con posizioni che si sono assestate, sempre Villabate a comandare e a dettare il ritmo, in seconda galoppa Beautiful Vintage, riconoscibile dal mantello grigio, in seconda corsia acquisendo una posizione c'è il nero, in quarta posizione Security Reason che lascia in quinta Circus Ring, in sesta posizione galoppa Black Horus. Cavalli che vanno ad imbucare l'addirittura d'arrivo con Villabate sempre in vantaggio, Beautiful Vintage che va per corsie interne ma non lo perde mai di vista. Comincia la sua progressione anche Circus Ring, al suo esterno c'è il nero, poi ancora gli altri con Black Horus e lo stesso Security Reason che battono corsie ancora più esterne. Intersezioni delle piste superate con tutti i cavalli accompagnati, tranne Villabate che adesso viene sostenuto, Circus Ring che non lo perde mai di vista, ci prova Beautiful Vintage. Dall'esterno si è cominciato a mettere sulle gambe anche Black Horus, Villabate però è ancora in vantaggio, è attaccato all'esterno da Circus Ring e dello stesso Black Horus. è rimasto un po' lì in questo parziale Beautiful Vintage negli ultimi 100 metri, Villabate deve solo amministrare perché è totale padrone della situazione, vince facile. Villabate c'è lotta solo per il secondo posto con Black Horus e Circus Ring nell'ordine, a completare il quadro vince però Villabate da favorito Fabio Branca in sella. Il training è quello della Simondi e Lupinacci, i colori sono quelli di Domenico Pellitteri, 6 al primo posto, 2 al secondo, ruolo di favorito giustificato ampiamente da una prestazione sopra la media. Da un capo all'altro per Villabate, appuntamento al premio Ribot, 1,45 come detto la quota al tot, 6 al primo, 2 al secondo, 3 al terzo per il premio Campidoglio è tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.